Un mestiere che richiede impegno, passione, ma soprattutto grande professionalità. È il lavoro delle guide turistiche professionali, aderenti all'Associazione Nazionale EGIA, che hanno in serbo una giornata di tour gratuiti domenica 19 febbraio. Anche l'Astigiano aderisce alla giornata internazionale e le guide turistiche offriranno diverse visite gratuite. Un tour dell'Asti Classica, con partenza alle 15, 15.30 e 16 da Piazza Alfieri. La visita della cripta di Sant'Anastasio, dalle ore 10 alle ore 13, dalle 15 alle 18.00. Le visite dell'Abbazia di Vetzolano, dalle 14.30 alle 17.00 e di Monastero Bormida, alle 15 e alle 16.30. L'istituzione della giornata mondiale della guida turistica serve a far conoscere all'utenza finale il valore della professione di guida turistica. Spesso quando si va all'estero si fruisce di un servizio di guida turistica, non si distingue spesso se la guida turistica è realmente abilitata oppure no. C'è una grande differenza ovviamente sia in Italia sia all'estero. Può succedere che sul mercato vengano offerti anche servizi da personale non qualificato e non abilitato e la giornata mondiale della guida turistica vuole proprio mettere l'accento su questo. La maggior parte dei turisti che visitano l'Astigiano sono di lingua tedesca, ma quali sono le mette maggiormente apprezzate che una guida turistica fa visitare? Il giro classico appunto si parte dalla piazza Alfieri spiegando appunto la piazza, quindi il paglio principalmente, poi si va in piazza San Secondo quindi con la collegiata e il municipio, di solito saliamo anche sullo scalone che è molto bello e poi dopo si prosegue verso piazza Roma con la Fontana e con la Torre Troiana, tra l'altro la più importante torre di Assi, anche la più alta, per poi proseguire verso piazza Catena e quindi il Vescovado e il Seminario e poi si continua verso la Cattedrale che tra l'altro è la cattedrale romanico-gotica più grande del Piemonte.